Icop ha da sempre un approccio molto improntato alla sicurezza in tutte le sue commesse, sia per gli elevati standard di sicurezza che ci vengono richiesti durante l'esecuzione dei lavori, sia proprio come policy aziendale, avendo ottenuto diverse certificazioni nell'ambito della sicurezza, così come anche ormai aver sviluppato e consolidato diverse procedure di sicurezza per le diverse tipologie di cantiere che solitamente andiamo ad affrontare. Sicuramente la digitalizzazione può rappresentare un'aggiunta e uno strumento di miglioramento per il mantenimento e raggiungimento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro come i cantieri che solitamente andiamo ad organizzare e poi a sviluppare, sia dal punto di vista della gestione documentale e dei dati che come strumento per fornire a chi si trova sul luogo di lavoro tutto quello che è il database informativo sul tema sicurezza con appunto i contenuti relativi alla sicurezza stessa. Penso che ci possano essere anche degli importanti sviluppi futuri che associano l'intelligenza artificiale, l'internet of things e tutta una serie di altri elementi che al giorno d'oggi uno vede molto distanti sia dal cantiere che dalla sicurezza che possono dare una mano e una spinta ancora maggiore all'integrazione tra questi due aspetti.